Giulietto, tu hai da tempo che paventi il gravissimo rischio di una nuova escalation a livello internazionale e quindi mondiale vediamo anche che questi personaggi che tu a volte hai chiamato i padroni dell'universo, il ponte di comando non temono di sfidare tutto e tutti qual è la posta in gioco? la mia visione della posta in gioco è la sopravvivenza dell'uomo la mia visione io credo di capire con grande chiarezza che se si va a questo scontro corriamo il rischio di morire tutti 50 bombe atomiche sono sufficienti per creare l'inverno nucleare dal quale praticamente nessuno riuscirà a sopravvivere quindi per questo la posta in gioco è la vita la vita dell'uomo e delle specie viventi tutte intere cioè la fine della nostra civiltà dall'altra parte c'è gente che non ha la minima idea di tutto ciò la maggior parte della gente non sa, non si rende conto non è stata informata, non per colpa sua non ha i parametri per giudicare questa cosa non sa e quindi non può difendersi ma è peggio ancora è che i protagonisti di questa operazione stanno giocando a rischio estremo io capisco l'uomo della strada che non reagisce che è indifferente lo capisco perché non sa ma quando io guardo i comportamenti dei dirigenti americani li sento parlare li vedo capisco il pericolo perché se coloro che hanno in mano le armi e lo strumento per decidere sono disposti a rischiare questa partita allora dobbiamo essere tutti molto molto attenti e in pericolo così è noi abbiamo dei protagonisti della scena mondiale che stanno rischiando consapevolmente il terzo scontro mondiale che sarà definitivo loro non hanno cioè questo rischio lo calcolano come è possibile che si possa uscire vincitori se no sarebbero dei folli è un errore di calcolo io non sto dicendo che loro pensano di vincere la guerra nucleare non lo pensano probabilmente probabilmente non lo pensano ma se tu arrivi a ragionare in questi modi cioè il ventunesimo secolo deve essere il secolo americano perché noi siamo i più forti di tutti il loro asset fondamentale non è più l'economia non è più la democrazia ma è la loro potenza militare su questo loro basano tutto siccome siamo i più forti il ventunesimo secolo deve essere il nostro apparentemente questo discorso è logico ma dal punto di vista della realtà delle cose è una totale follia l'America non può guidare un mondo di 7 miliardi di uomini dove ci sono ormai dei potentati giganteschi che possono sfidare e che in realtà sfidano l'Occidente perché sono diventati forti non perché sono agguerriti la Cina non vuole la guerra non ha la minima intenzione non è interessata perché non ne ha bisogno questo è il problema guardiamo la realtà delle cose la Cina non ha nessun bisogno della guerra la Russia non ha nessun bisogno della guerra perché ha tutte le risorse in casa sua non ha bisogno di niente può vendere l'unica cosa che serve alla Russia è vendere le sue risorse al miglior prezzo possibile quindi da lì non viene nessuna minaccia dove viene la minaccia? viene proprio dal paese o dai paesi che non sono più in grado di crescere le cui risorse sono sempre più scadenti ridotte e che ritengono di poter mantenere il potere mondiale ma in queste situazioni non puoi mantenere il potere mondiale se non usando la forza buonasera cari amici sono felice di essere qui con voi da un lato o da un altro sono triste perché siamo qui a ricordare un grande uomo un grande amico un grande professionista che ha lasciato questo mondo e passato a miglior vita Giulietto Chiesa sicuramente uno dei più grandi intellettuali del panorama nazionale e credo anche mondiale è morto tra la notte del 25 e 26 aprile di quest'anno 2020 in modo inaspettato perché fino a poche ore prima era ancora davanti ai microfoni e alle telecamere a incitare e a spiegare il mondo di oggi a incitare alla resistenza a incitare ad organizzarci a incitare a cambiare perché come tantissime volte lui ha avuto modo di spiegare stiamo andando incontro a una grande catastrofe sia da un punto di vista sociale con una guerra che comunque nonostante la pausa dovuta al coronavirus continua ad essere preparata e anche a un disastro di carattere ambientale perché il sistema produttivo il sistema economico con le aggressioni e lo sfruttamento delle risorse stanno riducendo il pianeta e quindi anche noi stessi in fin di vita nella clip introduttiva che abbiamo visto Giulietto parla in maniera estremamente chiara e precisa del gravissimo pericolo della guerra appunto che lui reputava imminente una guerra a cui forse le persone non credono che si possa fare quindi una guerra con armi nucleari che distruggerebbe la vita di fatto per sempre nel nostro mondo ed è un concetto che forse si fa fatica ad accettare perché tantissime persone o la maggior parte chissà pensano ma non la faranno perché morirebbero anche loro ecco io credo lo credeva anche Giulietto Chiesa che noi non ci rendiamo conto con chi abbiamo a che fare non ci rendiamo conto che gli uomini di potere che siedono ai tavoli di comando e che possono determinare decisioni di portata globale siano molto diversi da noi è un qualcosa che noi non comprendiamo ed è un altro concetto che Giulietto esprime molto chiaramente nel seguente contributo che adesso vi vado a presentare nel caso che loro sanno che può scoppiare una guerra atomica dove loro stessi moriranno cosa spiegano? Che pensano? Che pensano? Tu pensi soltanto questo che se è vero l'1,2% di quello che ho raccontato sul 5G i loro figli saranno sottoposti i loro figli saranno sottoposti allo stesso battellamento come fai? Come li difendi? Dove li difendi? E cosa pensano? Qui c'è la dualità della personalità umana c'è il fatto che questa gente che ha un potere smisurato senza controllo pensano di essere immortali che pensano di essere loro pensano di cavarsela 2012 il film 2012 è il film che ha rappresentato i loro desideri quello che loro pensano noi siamo così ricchi che potremmo trovare un modo per salvarci e gli altri troveremo un modo troveremo un modo quale modo? Non si sa Paul Krugman l'inventore del termine padrone universale tu sai che io lo cito sempre perché non l'ho inventato io il termine padrone l'ha scritto sul New York Times esistono i padroni universali lui avrà un'idea di suo modo però lui ci parla con loro tutti i giorni e lui dice noi dobbiamo pensare a un mondo dove l'energia sia solo pulita l'ha detto lui un mondo dove gli idrocarburi non si useranno più gas, petrolio il nostro mondo è questo è dove la produzione materiale non sarà più la produzione materiale perché sarà meno importante ciò che si produce materialmente sarà importante la conoscenza ecco questo è il teorico del diciamo di questa classe lui pensa che il suo desiderio sia la realtà e non si pone il problema del fatto che per arrivare all'energia pulita succederà prima una catastrofe ecologica mondiale e che il problema della conoscenza riguarderà se riguarderà un pugno di uomini e tutti gli altri saranno condannati alla morte capite qual è è una dualità quindi oltre il cinismo che è che è pericolosa che è la mentalità di una nuova classe umana scusami per concludere ma è proprio così che la pensava Hitler ma è più o meno più o meno così cioè noi siamo di fronte a un gruppo di responsabili che il destino ha messo al comando del mondo questa è la spiegazione il comando del mondo e Giulietto questi personaggi in grado di partorire piani così folli come appunto Giulietto dice nella clip che abbiamo appena ascoltato Giulietto li chiamava spesso anche i padroni universali ed è un concetto che lui ci teneva molto a ripeterlo negli incontri nelle conferenze nelle interviste quindi il prossimo contributo che adesso vi manderò riguarda un altro evento che fu organizzato a Sant'Elpidia Mare circa due anni fa ed è una conferenza pubblica che fu organizzata da Giorgio Bongiovanni dalla sua redazione andiamo ad ascoltare questo contributo Passerò la parola a Giulietto che mi confermerà se è corretto dire che ci sono dei padroni universali per padroni universali per chi non mastica molto di queste cose noi intendiamo i padroni dell'economia mondiale quelli che dirigono le sorti del mondo dell'alta finanza intanto se esistono e se dovessero esistere come ci possiamo difendere? come difenderci? come difenderci? perché la prima considerazione che mi viene in mente è che siamo sotto attacco non so quanti se ne accorgono ma noi siamo sotto attacco e siamo sotto attacco tutti i giorni e la situazione sta diventando sempre più grave perché costoro che in realtà abbiamo chiamato proprietario o padroni universali ma in realtà non sono i padroni universali è una delle cose da spiegare loro si sono considerati i padroni universali ma io dubito che lo siano e una delle ragioni per cui noi siamo sotto attacco è che loro sono molto preoccupati di non esserlo più questa è la prima cosa che vorrei poi approfondire certo perché è importante se non si capisce tutto quello che succede se fossero davvero i proprietari universali perché farebbero tutte queste guerre perché sarebbero così nervosi perché continuamente ogni giorno ci riserverebbero queste sorprese sempre peggiori una dell'altra perché sono preoccupati quindi anticipo uno dei temi che spesso su internet si sente circolare no nuovo ordine mondiale ma non c'è nessun ordine mondiale in realtà c'è un grande disordine occidentale questo sarebbe il vero il vero tema della discussione da dove viene questo disordine e ne parliamo la seconda cosa che volevo toccare rispondendo alla domanda di Giorgio non sono soltanto i padroni dell'economia sono molto di più purtroppo per noi sono molto di più sono i padroni delle nostre menti anzi credo proprio che il loro obiettivo principale sia quello di impadronirsi definitivamente delle menti di qualche miliardo di persone non di tutti perché non potranno ma l'obiettivo è di sottomettere le nostre menti e qui bisogna riflettere bene perché voi dici che vuol dire sottomettere le menti che cosa vuol dire vuol dire una cosa molto precisa che questi signori hanno imparato a toccare i bottoni giusti ci sono dei bottoni nel nostro cervello e adesso poi vedremo quali sono poi vediamo quali ecco sostanzialmente quindi non sono i padroni dell'economia sono i padroni dell'intero sistema della comunicazione e allora qui si pone il problema come difendersi Giulietto Chiesa un grande personaggio un grande uomo un grande professionista un professionista che ha saputo raccontare i fatti del mondo come nessun altro perlomeno in Italia e sicuramente a livello internazionale pochi pochi come lui sono riusciti ad avere questa grande visione questa grande quasi capacità profetica nel leggere le cose dell'oggi proiettate nel domani un uomo che ha avuto la capacità di comprendere la grande esigenza della sopravvivenza del pianeta messa a rischio di un sistema economico e produttivo e anche militare che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza sia del genere umano che è appunto quella del pianeta stesso quindi questo speciale è in memoria di questo grande personaggio che è stato un grande amico una persona con cui abbiamo avuto il grande onore di poter collaborare e condividere tante cose insieme quindi in questo incontro ci sarà Giorgio Bongiovanni e altri amici e professionisti che hanno strettamente collaborato con lui lungo fasi della loro vita e che hanno avuto appunto un rapporto intimo con Giulietto sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano il taglio che cercheremo di dare al di là dei video che comunque come questo che ha introdotto la serata continueremo a proiettare sarà soprattutto cercare di dare un ritratto un po' più intimo di questo personaggio perché comunque il ritratto pubblico è già stato ampiamente dibattuto e presentato nei vari media che hanno parlato di Giulietto subito dopo la sua morte è avvenuta a cavallo tra il giorno 25 e 26 aprile quindi adesso mi collego con Giorgio Bongiovanni che attualmente si trova in Sud America e Giorgio ci racconterà ci dirà quelle che sono le sue esperienze perlomeno quelle principali e quelle che sono le sue valutazioni sia da un punto di vista professionale che umano ciao Giorgio buonasera veniamo a Giulietto Chiesa Giorgio un grande personaggio che tu credo non a caso hai contattato mi ricordo ancora negli anni 90 fini anni 90 si è andato a trovarlo a casa sua a Mosca un personaggio molto importante nella sfera giornalistica culturale italiana e a parer mio anche internazionale perché Giulietto era molto conosciuto anche all'estero stato tantissimi anni in Russia come corrispondente ecco una domanda a Giorgio Bongiovanni cosa è Giorgio che ti ha spinto ad andare a incontrare Giulietto Chiesa che tra l'altro come estrazione tra virgolette umana e anche se possiamo dirla tra virgolette spirituale era un ateo marxista comunista quindi aveva poco a che fare con un personaggio come te che hai l'estima te che vivi delle esperienze particolari cosa ti ha spinto Giorgio una tua intuizione interiore Gramsciano diceva sempre Giulietto Gramsciano ci teneva a precisarlo sono Gramsciano ma io sono andato a trovare Giulietto perché parafrasando frasi bellissime di Giulietto che non erano arroganti ma erano satiriche scherzose ma per me vere siccome anch'io sono uno scienziato Giulietto mi diceva Giorgio ricordati che sono uno scienziato ed è vero ecco anch'io sono un piccolo scienziato allievo di Giulietto Chiesa giornalista mio maestro e da scienziato ho pensato questo uomo ha una grande cultura immensa inoltre vive da vent'anni in Russia che è la cultura più vasta del mondo la più profonda che può competere tranquillamente anche se io reputo la nostra cultura italiana al pari o superiore della Russia ma certamente può competere con la nostra quindi un italiano giornalista laureato scienziato che va in Russia e scopre l'arte infinita filosofia teologia astronomia metafisica della Russia e quindi anche la politica è ovvio che lo devo andare a trovare perché i libri che lui scriveva io da ragazzo Giulietto già grande giornalista io giovane studente di varie cose leggevo i suoi libri uno dei primi libri primissimi che ho letto di Giulietto che poi mi sono andato a cercare anche le sue cronache giudiziarie scusate cronache di politica estera sono andato a leggere Russia a Dio il primo libro che è uscito nel 1993 il primo libro diciamo dopo la caduta dell'Unione Sovietica perché già Giulietto ne aveva scritti altri prima e questo mi ha affascinato perché questo libro si chiamò ancora oggi è in ristampa in Russia si chiamava Addio Russia Russia a Dio e leggendolo tutto in un fiato per chi mi conosce ho la fortuna ho tanti limiti nella mia vita anche cerebrali se volete idee distorte probabilmente ma sempre legali a favore della legalità riesco a leggere velocemente i libri io posso leggere un libro in due o tre ore facilmente me lo sono letto durante il viaggio che ho fatto Milano-Mosca che dura due ore e mezza tre ore circa tra attese varie check-in puoi fare anche tre ore tre ore e mezza e me lo sono letto tutto d'un fiato ed ero d'accordo perché Giulietto profetizzava la fine dell'Unione Sovietica non dell'Unione Sovietica che era già finita la fine della Russia e aveva ragione perché era caduta nelle mani di un ubriacone corrotto e vigliacco come Boris Yeltsin esaltato da tutti e anche allora Giulietto era solo come un cane e diceva che l'America voleva mettere piede conquistare anche a livello militare anche con i codici nucleari completamente la Russia grande amico di Gorbachev all'epoca e che Gorbachev era l'ultimo baluardo della diciamo della democrazia dell'Unione Sovietica mai di fatto nata il tentativo di fare creare fare sorgere una democrazia nella ex Unione Sovietica della dittatura comunista e anche assassina da Stalin fino a Khrushchev no scusate fino ad Antropov che è stato il padre spirituale di fatto di Gorbachev invece Gorbachev illuminato da Dio forse apre e crea la perestroica cioè la democrazia in Unione Sovietica tentativo fallito perché vogliono uccidere Gorbachev perché se avesse creato la democrazia per la perestroica e l'Unione Sovietica oggi ancora dovesse esistere in questo momento la situazione dell'umanità sarebbe totalmente differente cioè molto più positiva di quello che invece ha creato la globalizzazione distruggendo la terra quindi Giulietto è stato in quel momento l'inviato della terra della natura del destino di Dio se volete per aiutare Gorbachev a cambiare il mondo e non c'è riuscito resistendo come un grande leone Giulietto Chiesa ha lottato con libri e progetti politici movimenti politici articoli di giornali conferenze trasmissioni televisive giorni e notte come un leone addirittura facendosi eleggere al Parlamento europeo creando uno o due partiti di alternativa appoggiando personaggi importanti nella magistratura come Di Matteo in Groia dando progetti politici a tutti i governi che si sono succeduti mai ascoltati dai governi i progetti di Giulietto finché è morto sul lavoro lui è morto il 25 aprile praticamente è morto la notte del 26 aprile ma è morto il 25 aprile perché l'ultima trasmissione di Giulietto poche ore prima di morire inneggiava la libertà la giustizia al cambiamento del mondo a riunirci per abbattere il potere dell'impero che sta schiacciando l'umanità e cercando trasversalmente di creare un nuovo movimento politico filosofico e culturale che lui da pioniere di fatto ha già creato di fatto il movimento politico culturale alternativo trasversale esiste grazie soprattutto a Giulietto Chiesa speriamo che con questi giovani possiamo portare avanti il suo progetto con la sua televisione Pandora con Antimafi 2000 con Antonio Ingroia e con altri personaggi che si erano legati a Giulietto Chiesa di portare avanti le sue idee e il suo progetto fino al trionfo della libertà permettetemi di dirmi che nel caso mio specifico che sono credente e praticante cristiano spirituale e mistico io credo che Dio ha sposato il progetto di Giulietto Chiesa e ci aiuterà a portarlo alla vittoria Giorgio una delle grandi visioni straordinarie di Giulietto è stato comprendere l'impatto terribilmente negativo che ha e avrebbe avuto negli anni a venire il sistema capitalista industriale basato su un'economia a sviluppo infinito all'interno di un sistema invece con risorse finite quindi la salvaguardia dell'ambiente era uno dei termi forti della visione diciamo anche nella spinta politica delle decisioni di Giulietto che valutazione dai su questo? Ma sono d'accordo Giulietto era contro la guerra senza se senza ma era non contro il sistema della globalizzazione era contro la violenta gestione autoritaria sanguinolenta fascista del sistema della globalizzazione quindi lui non è che era contro la globalizzazione era un vecchio comunista ortodosso che voleva che si scrivesse ancora le ricevute con la macchina con i tasti meccanici o a penna o che si scrivessero i libri a penna o che le trasmissioni dovesse essere fatte con le le cassette VHS quelli che pesano un chilo a videocassetta e non con i pendrive Giulietto era totalmente a favore ma proprio a favore ed era lui uno dei promotori della super tecnologia solo che era contro il sistema selvaggio fascista ripeto nazista dell'uso della globalizzazione quindi la grande finanza mondiale come era gestita le democrazie come erano gestite in forma falsa e ingannevole erano le democrazie delle grandi nazioni più potenti del mondo come gli Stati Uniti d'America di fatto sono delle vere autarchie fasciste vestite da democrazia quindi l'inganno che è peggiore del tradimento Giulietto era a favore delle grandi innovazioni tecnologiche però era contro all'inguinamento frenetico e alla contaminazione cioè alla violenza selvaggia che l'uomo sta ponendo in essere contro la Terra e sapeva che la Terra essendo un essere vivo perché Giulietto era anche astronomo gli piaceva la scienza del cosmo studiava questi fenomeni e sapeva che la Terra come l'universo ha una sorgente di vita e quindi come una grande cellula o come un grande corpo che vuole vivere e preserva la sua vita l'istinto della preservazione della vita della Terra diceva Giulietto ci darà delle conseguenze catastrofiche perché la guerra e la Terra creerà degli anticorpi come il nostro cervello da ordine ai nostri anticorpi di attaccare i virus o gli enzimi o le cellule che stanno mettendo in pericolo la nostra sopravvivenza la Terra farà lo stesso e infatti il coronavirus e altre situazioni di pandemia o di catastrofi naturali o di uragani o di terremoti Giulietto li leggeva certamente non era convinto al 100% ma dava per verosimile che determinate catastrofi naturali erano reazioni della Terra contro la selvaggia globalizzazione contro il selvaggio militarismo la politica della guerra la politica dell'inquinamento e quindi lui pensava che non andavamo avanti se non ci fosse stato un cambiamento repentino nei prossimi dieci anni ci sarebbe stata una grande catastrofe la prima l'ha vissuta quasi anche lui in diretta di questo virus killer assassino che ha appena iniziato a colpirci e vediamo se riusciamo a cambiare per calmarlo o sconfiggere sarebbe stato presente fisicamente lo sarà dall'alto dei cieli a ciò che lui aveva previsto se l'unione europea l'occidente gli stati uniti e tutte le nazioni più potenti del mondo non iniziano a cambiare registro a cambiare musica quindi moriremo tutti se nei prossimi dieci venti anni non c'è un cambiamento positivo cioè ci sarà l'estinzione dell'uomo sosteneva Giulietto ma non perché messia visionario perché vedeva la madonna o perché era in contatto con Gesù Cristo lui lo diceva dal punto di vista scientifico dei fatti un'altra grande visione Giorgio che aveva Giulietto che coincide con determinate scritti messaggi che hai pubblicato tu è che di fatto le democrazie erano solo un'apparenza e che dietro le democrazie le fazioni politiche eccetera eccetera abbia in realtà un ponte di comando lo chiamava lui o padroni universali che sono i veri burattinai che determinano tutte le grandi decisioni mondiali quelle che contano realmente comprese le guerre comprese i movimenti dell'economia e che non obbediscono a nessun tipo di potere quindi si muovono in maniera assolutamente anarchica e libera perseguendo i loro specifici interessi a discapito del resto dell'umanità quindi un'altra grande visione un'altra grande intuizione di Giulietto Chiesa assolutamente non solo ma lui lo dimostrava e anche noi nel nostro piccolo dal punto di vista della cronaca giudiziaria cioè Giulietto lo affermava e per questo mi invitava dei convegni congiunti dove noi dimostravamo noi sul versante lotta la mafia attraverso le indagini giudiziarie dei grandi magistrati o delle inchieste giornalistiche che noi portiamo avanti da vent'anni e lui ci arrivava secondo le tracce politiche investigative giornalistiche di atti di terrorismo terrorismo finanziario terrorismo mortale con le bombe eccetera arrivavamo alla stessa conclusione c'è una grande finanza mondiale di un centinaio forse un migliaio di persone che sono gli uomini più ricchi del mondo che hanno un pozzo una cassaforte a disposizione di denaro infinito e tra questi ci sono anche le organizzazioni criminali che sono narcotrafficanti cioè i narcos delle mafie mondiali la più quella che si trova entro le prime tre posizioni purtroppo è la mafia italiana con l'Andrangheta Cosa Nostra la Camorra la Segreta Corona Unita la mafia nigeriana che sono tutte in Italia e che sono collaboratrici tra di loro ma l'Andrangheta e Cosa Nostra sono le guide di queste mafie sono le organizzazioni più ricche del mondo quindi la mafia è seduta con queste mille persone con un patrimonio di centinaia di migliaia di miliardi in dollari qui così come Bill Gates ha 100-150 miliardi di dollari Carlo Slim ce ne ha altri 150 miliardi George Soros i Rockefeller i Rothschild sono tutti padroni di quote azionarie o di patrimoni in soldi di centinaia di miliardi la mafia ha di più c'ha qualche centinaia di migliaia di miliardi tutte le mafie messe insieme hanno a disposizione di soldi e molti di questi sono contanti cioè i magazzini dove magazzini interi o petroliere navi sotterranei grotte come Aladino come il conte di Monte Cristo sembrano leggende ma le mafie ci hanno nascoste centinaia di miliardi in euro nascosti in tanti forzieri non solo nelle banche questi sono i padroni del mondo sono quelli che comandano le borse sono quelli che danno le indicazioni alla politica degli Stati Uniti d'America cioè delle democrazie tra virgolette sono quelli che condizionano la Cina sono quelli che tentano di condizionare anche la Russia ma la Russia ha un altro boss incondizionabile che si chiama Putin che a sua volta controlla centinaia di miliardi di dollari della sua Russia ma anche lui è un autoritario quindi questi personaggi condizionano la nostra civiltà Giulietto li aveva individuati aveva capito chi erano che cosa hanno nelle mani cioè le forze militari sono a loro disposizione e quando si rompe qualche piatto a tavola qualche bottiglia di vino viene scaraventata per terra in quel tavolo di cui ti parlavo prima può succedere una crisi finanziaria di livelli sconcertanti come può succedere anche una guerra mondiale se guerra mondiale dovesse succedere non è una guerra convenzionale è una guerra nucleare meno male che di fronte a questa situazione che Giulietto stava studiando lui addirittura pensava che forse era un virus in laboratorio ma poi diceva no forse è la natura stava studiando sarebbe arrivato la verità che noi pensiamo di conoscere che il virus ha interrotto naturale virus naturale ha interrotto temporaneamente le diatribe che ci sono nel tavolo da gioco del potere mondiale e ha messo in stand by tutta l'umanità in questo momento Giorgio un'ultima domanda c'è un fatto curioso che direi unico nella storia giornalistica di Giulietto Chiesa a fine anni 90 lui pubblica sulla stampa un'intervista a uno scienziato russo di nome Boris Rodionov dove si parlava che praticamente lo scienziato aveva a suo parere individuato dalle foto mandate sulla Terra dalle sonde spaziali sul satellite Europa aveva individuato delle chiare indicazioni rispetto a ciò che si vedeva sul suolo ghiacciato del satellite e aveva individuato secondo Rodionov che lì possibilmente c'era una civiltà intelligente che costruiva delle grandissime gigantesche installazioni e quest'articolo fu pubblicato dopo dal giornale italiano La Stampa e poi tu tu stesso non so se grazie a Giulietto intervistasti a Mosca Boris Rodionov che ti rilasciò l'informazione in merito a questa sua incredibile scoperta cosa ricordi cosa pensi di questo fatto ma guarda ti posso dire per rispetto alla riservatezza di Giulietto ma questo sono convinto che lui è felice che ve lo racconto senza raccontare altro che lui non voleva che io raccontassi perché Giulietto era molto scrupoloso di dare le notizie quando aveva certezza con dei fatti le sue intuizioni però non erano da meno e Giulietto mi parlava delle sue intuizioni e mi dava ordine di non raccontare le sue intuizioni perché già quando raccontava fatti le dimostrava gli davano del catastrofista del pazzo figurati se io andavo a raccontare le intuizioni a Giulietto l'avrebbero messo in una clinica psichiatrica però le intuizioni che lui ha avuto in Russia me le ha dette me le ha raccontate mi ha detto che aveva avuto durante la sua lunghissima permanenza a Mosca dei colloqui con degli scienziati russi degli astronomi dei scienziati di cosmofisica degli astrofisici la questione degli UFO per esempio non era da buttare nella spazzatura ma era una questione seria molto seria che Giulietto mi ha detto io sono convinto perché i russi non sono dei ciarlatani che è un fenomeno molto serio da studiare e che assolutamente è intelligente e che assolutamente se dovesse essere intelligente come lo sarà non è di questo modo e si fermava lì mi ha detto più avanti vedremo ancora è presto passeranno anni ma certamente questa frontiera sarà abbattuta e noi mi diceva Giulietto come sempre quando abbiamo fatti scientifici lui mi diceva tu puoi dire quello che vuoi perché sei un credente sei un religioso uno spirituale quindi la filosofia la teologia può azzardare anzi devi difendere le tue idee dandole dandole come certezze ma nella scienza dobbiamo basarci solo su ciò che abbiamo quello che abbiamo in Russia sono delle cose serie al di là delle foto mi parlava lui dei filmati foto e filmati c'erano proprio delle presenze degli esperimenti scientifici che i russi avevano fatto grazie appunto a queste foto filmati presenze ufologiche avevano fatto degli studi precisi e stavano giungendo a delle conclusioni molto interessanti questa è una cosa che lui me ne parlò con grande entusiasmo lui le chiamava presenze ci sono presenze non mi diceva altro che questo poi che la nostra terra era poco conosciuta dalla scienza ufficiale e c'erano delle iscrizioni rupestri dell'arcologia del passato molto interessante da studiare ma come sai impegnato questo lo faceva come hobby e lo faceva sempre seriamente con molta realtà e grande professionalità investigativa da giornalista però lui dedicava soprattutto il tempo come sappiamo e come giusto che era alla politica e alla ricerca della verità per quanto riguarda il dominio dei potenti nei confronti dei deboli e della lotta contro le guerre ad ogni cosa per chiudere Giorgio con te che eredità ci lascia Giulietto e cosa ti ha lasciato Giulietto sia come professionista che come amico come uomo a te a Giorgio Bongiovanni la tenacia la tenacia di credere in quello nel quale credi nel quale sei sicuro nel quale tu sei disposto a dare la vita lo devi fare costi qualche costi anche se questo credo non è la verità assoluta ma deve essere una verità giusta una verità che fa del bene agli altri che aiuta i più deboli e che fa giustizia per la conquista di una civiltà democratica e pacifica questo è l'insegnamento che mi ha dato Giulietto grazie Giorgio un'ultima cosa velocissima nell'incontro che ci fu a Sant'Elpidiamare che ti ricordo era proprio la forza dello spirito lui vide uno spettacolo degli hour voice ebbe dei commenti molto lusinghieri molto anche increduli quasi in senso positivo perché Giulietto comunque sperava tanto nei giovani lui cercava il contatto con i giovani e proiettava le sue visioni quasi profetiche seppur laiche nella gioventù sperando che prendesse coscienza e portesse avanti la battaglia quindi Giulietto era per i giovani assolutamente Giulietto sarà dedicato perché lui sarebbe stato il maestro l'ispiratore la guida del progetto dei ragazzi di Our Voice per un mondo migliore la denuncia di tutti i mali del mondo Giulietto era la guida di questo quindi questi quattro volumi che usciranno nei prossimi anni saranno non solo dedicati a lui ma sono stati ispirati da lui e lo filmeranno tutti questi ragazzi benissimo Giorgio un abbraccio presto un abbraccio grande grazie Giorgio a presto ciao bene amici adesso mandiamo questo spezzone filmato ci sono potenti forse che dispongono di grandi quantità di denaro che hanno intelligenti intelligenze che sanno prevedere il comportamento della gente perché hanno a disposizione i dati che noi non abbiamo loro sanno in anticipo cosa noi pensiamo e lo sanno per ragioni statistiche non perché sono dei geni semplicemente perché hanno accumulato una grande quantità di dati che noi gli abbiamo regalato senza sapere e con questi dati loro li mettono teoricamente in un computer li fanno lavorare e questi dati dicono la gente preferisce questo 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 la gente è sensibile a questo questo e questo se la statistica è buona e la statistica è sempre buona perché ti dà un risultato generale loro diranno se io toccherò quel tasto lì avrò una reazione così se io tocco un altro tasto avrò un'altra reazione ecco che loro sono in grado di prevedere le reazioni e quindi sono in grado di produrre queste reazioni perché sono le stesse persone che hanno in mano tutti i più importanti sistemi di comunicazione del mondo elementare direbbe Watson elementare ma è così che funziona ed è così ed è in questa società che voi siete nati voi non vivete più in una società democratica questa società non ha più nulla della democrazia salvo la veste esteriore il vestito è come uno si mette la mattina e va a messa si mette la cravatta si veste bene e questo è il vestito ma sotto non c'è niente non c'è più nulla le strutture della democrazia sono già state eliminate da tempo e naturalmente tutti tutti ritengono di vivere ancora in queste strutture quindi si illudono che ci sia un modo per votare non c'è nessuno che meriti il mio voto il vostro voto nessuno questa classe politica è interamente composta di maggiordomi ignoranti che prendono decisioni le votano che sono state costruite altrove e loro obbediscono perché sono per metà vili e per l'altra metà ignoranti e quindi essendo vili e ignoranti non possono produrre niente di buono qualunque cosa dicano è pericolosa perché è fatta da ciechi ciechi che non sanno neanche attraversare la strada quindi il discorso è che cosa facciamo è un altro discorso ma questi non valgono niente e questi sono solo la sorgente dell'inganno bene amici dopo aver ascoltato Giulietto e le parole di Giorgio adesso intervengono altri professionisti altri amici che hanno avuto a che fare con Giulietto Chiesa ci colleghiamo adesso con Anon Pettinari Anna Petrozzi e Monica Centofante che hanno avuto a che fare personalmente con Giulietto sia sul piano professionale che umano ovviamente ci racconteranno le loro esperienze e anche la loro visione dell'uomo Giulietto e del professionista Giulietto Chiesa buonasera ragazzi ciao buonasera a tutti buonasera buonasera Pier buonasera Anna Monica tutti quanti ciao ciao allora tutti voi Aaron Aaron in questo momento caporedattore della rivista antimafia 2000 Anna Petrozzi co-redatrice co-capo redatrice sempre di antimafia 2000 Monica collabora a tutt'oggi con antimafia 2000 per quanto principalmente si dedichi ad altre cose ma ha avuto per anni un rapporto di lavoro e anche di amicizia molto profonda con Giulietto Chiesa quindi io inizierei faremo a giro ogni tanto manderemo qualche spezzone delle geniali letture di Giulietto sul mondo sulla vita eccetera e inizierei con Aaron Pettinari Aaron 2006 è stato un anno molto importante per te un anno di grandi cambiamenti tra i quali anche l'incontro con Giulietto Chiesa cosa ci puoi raccontare? ma Pier io non nascondo comunque l'emozione proprio perché comunque ritengo che la perdita di Giulietto lasci un vuoto che per certi versi è incolmabile ricordo la domenica mattina che abbiamo saputo insomma della sua dipartita e in un attimo tra di noi è viaggiata la comunicazione Anna che mi scrive e mi dà in una chat e mi dice ma hai visto Vauro cosa ha scritto su Facebook ma è vero cioè anche noi non sentavamo a crederci di quello che stava accadendo tra l'altro Vauro che conosco e che ho anche intervistato personalmente quindi c'è grande emozione a parlare di quello che c'è stato non tanto per il rapporto personale che io ho avuto con Giulietto perché magari l'ho avuto molto meno che altre persone Pier però tramite le esperienze di Monica le esperienze di Anna le esperienze di Giorgio le esperienze di chi è venuto prima di me dalla relazione ho imparato a conoscere Giulietto quasi sentendolo come uno che faceva parte della nostra famiglia che in qualche maniera poteva essere nella visione del mondo avevamo la stessa visione del mondo oltre all'aspetto personale che dicevi poco fa che comunque ci siamo conosciuti abbiamo collaborato abbiamo fatto delle cose insieme il 2006 sì è stato un anno particolare a livello personale mio per diversi aspetti perché in quei primi mesi dell'anno stavo pianificando il viaggio in Argentina con Funima International che sono stato nelle Ande nel febbraio di quell'anno in quello stesso anno non mi ricordo se Anna Petrozi o Lorenzo o Valda mi avevano fatto la proposta di entrare all'interno come organico del giornale ma comunque è in quell'anno che questo accade quindi inizia la mia esperienza all'interno di Antimafia 2000 ed è in quell'anno che entro che conosco Giulietto di persona che fino a quel momento non mi ero mai incontrato con lui accade i primi di gennaio guarda caso io già scrivevo da qualche tempo non per Antimafia 2000 ma per il resto del Carlino quell'anno ricordo ero andato a Roma mi trovavo a Roma per una delle trasferte classiche con il Carlino perché mi occupavo di sport seguivo una squadra di basket locale qua nelle Marche di Montegranaro che giocava in Serie A e a un certo punto il 15 di gennaio era una domenica mi chiamano non so bene se Anna o Monica o Lorenzo o chi sia mi dicevano ma sei a Roma? sì ma perché non vai a questo incontro in teatro in teatro romano vicino alla stazione alla stazione di Roma perché c'è un incontro importante per un'altra tv era un incontro diciamo che veniva organizzata per un'altra tv nasceva era stato organizzato un comitato per fare una proposta di legge popolare era stato organizzato che vedeva tra i vari firmatari di questa proposta di legge per togliere l'ingerenza della politica dalla televisione tra i tanti c'erano Sabina Guzzanti Tana Ezzolueta Marco Travaglio Udo Gumpel Paolo Flores d'Arcais e tanti altri personaggi e tra questi c'era anche Giulietto e io lì mi incontro quella sera con Giulietto con Giulietto Chiesa che già collaborava da qualche tempo con Antimafio 2000 diciamo inizia un percorso non solo per quanto riguarda questa raccolta firme perché c'è dove operiamo come Antimafio 2000 per raccogliere le firme per questa proposta di legge iniziativa popolare ma anche in qualche maniera è come se si getta un po' il seme di quello che verrà poi con Pandora TV perché Giulietto ha sempre creduto nella necessità di creare un canale di informazione diverso perché l'informazione la sappiamo quella classica quella tradizionale quella diciamo che appartiene al mainstream ha un certo tipo di bacino di utente dal momento in cui la RAI o i strumenti più privati tv pubblico private e offrono un panorama di informazione che in realtà è fatto più di altro che di informazione e nasce l'idea di fare poi Pandora TV perché comunque era un canale informativo alternativo e questo era sicuramente molto molto importante che impressione ti ha fatto Aaron a primo acchito ovviamente Giulietto già lo conoscevi come personaggio un personaggio pubblico però incontrarlo di persona che effetto ti ha fatto tu giovane giornalista alle prime armi e Giulietto grande professionista affermato sia in Italia che anche all'estero soprattutto in Russia conosciutissimo tanto che un ricercatore italiano Roberto Quaglia ha raccontato che mentre erano in ristorante a cena con lui era lui Quaglia in ristorante con Giulietto c'era anche Putin e quando Putin stava uscendo ha cambiato rotta si è avvicinato da Giulietto e lo ha salutato quindi per dire la grandissima notorietà che Giulietto aveva in quel paese credo sia stata anche l'unica volta in cui Giulietto abbia incontrato di persona Putin quindi questo grande personaggio che effetto ti ha fatto averlo di fronte fisicamente? Beh è stato sicuramente molto particolare io fino a quel momento considera che si lavoravo iniziavo già a lavorare come scrittore come giornalista di cronaca locale e di sport per il resto del Carlino però Giulietto lo conoscevo per i suoi libri lo conoscevo per quello che faceva che portava avanti come corrispondente della stampa prima ancora dell'unità libri come cronache marziane il super clan Afghanistan anno zero la guerra come menzogna insomma tutta una serie di libri di pubblicazioni che in qualche maniera hanno anche guidato e accompagnato il percorso della mia vita per il semplice fatto che mi trovavo di fronte anche comunque a una persona che si faceva tante domande non si accontentava mai della risposta ufficiale perché questo è quello che poi in qualche maniera ci ha insegnato e ci ha lasciato Giulietto non fermarci mai alla prima alla prima versione c'è sempre qualcosa d'altro quindi chiederci ci ha stimolato a chiederci perché da giovane cronista quindi sicuramente una grande una grande emozione perché sapevo lo spessore della persona che avevo davanti lui a tempo ero parlamentare e da lì appunto dicevo è iniziato un percorso abbiamo iniziato con la raccolta firme con Monica ricordo quell'estate abbiamo ci siamo veramente passatemi il termine fatto il marzo per portare il raggiungimento di 50 di superare le famose 50.000 firme necessarie per arrivare a portare in Parlamento che è la proposta di legge popolare perché è uno di quegli strumenti che la democrazia italiana la nostra democrazia prevede che ahimè purtroppo viene spesso tradita perché io devo essere anche onesto e raccontare fatti sono un giornalista e a tutt'oggi non mi risulta che da quegli anni sia mai stata discussa questa proposta di legge popolare quindi a volte poi dopo c'è la riflessione successiva che cosa è successo per quale motivo non è andata avanti la proposta di legge abbiamo sentito parlare anche negli ultimi anni di riforma della RAI o di necessità di una riforma della RAI e poi dopo accade che appunto ci troviamo così in qualche maniera con la proposta di legge nei cassetti del nostro Parlamento detto questo l'esperienza poi è continuata la PR è andata avanti con gli anni successivi la collaborazione è stata più stretta tante volte mi sono trovato ad andare a Roma per parlare perché i progetti erano continui nel 2007 per esempio ricordo che abbiamo portato avanti il discorso di Zero l'inchiesta sull'11 settembre che è stata portata avanti da tante persone Giulietto Gor Vidal per citarne Lidia Ravera Battimo per citarne alcuni Grazie Aaron Aaron è un giornalista e il giornalismo oggi si confronta con quelli che sono i grandi social network i grandi media del mondo della rete cioè Facebook Google coloro che raccolgono i big data e che con questi dati riescono a manipolare le menti delle persone ed è un concetto molto importante nel mondo appunto dell'informazione a cui Giulietto teneva tantissimo nel riferirlo alle persone sono gruppi molto decisi dotati di una sterminata quantità di denaro questo è il punto che dobbiamo sapere siccome lo inventano il denaro questa gente può spendere qualunque somma noi siamo in una situazione che quando uno può decidere di tirare fuori 10 miliardi di dollari lo fa in due minuti e non c'è bisogno di inventare delle cose il 5G e tutti gli sviluppi tecnologici in corso danno a questa gente un potere sterminato che è finanziario e mentale perché il controllo di Google di Facebook ormai riguarda 2 miliardi e mezzo di persone solo Facebook serve 2 miliardi e mezzo di persone della popolazione mondiale il che vuol dire due cose primo che questi 2 miliardi e mezzo di cui io faccio parte cittadino onorario lavorano per Facebook quotidianamente 2 miliardi e mezzo di persone forniscono a Facebook Google eccetera una quantità enorme di informazioni sulla nostra vita sui nostri sentimenti i cosiddetti metadata sono il loro patrimonio che vale come sappiamo miliardi Google Analytics questa roba qua vale miliardi si vendono milioni di indirizzi che sono milioni di informazioni milioni di ritratti umani quindi questa è una ricchezza oggi è la ricchezza della conoscenza della psicologia quindi se io voglio costruire un nuovo ordine mondiale la prima cosa che devo pensare è costruire i cervelli di milioni di persone questo sta avvenendo quindi il problema è qual è il contrapeso che ci abbiamo allo stato attuale delle cose non c'è il contrapeso Monica Centofante tu all'epoca in cui hai intanto buonasera ciao grazie di essere qui con noi grazie anche a Dano non vi ho ringraziato prima non vi ho salutato però grazie a te la confidenza ti fa perdere delle fasi che sono comunque importanti Monica tu conosci da Giulietto da tantissimi anni hai avuto modo di collaborare con lui molto strettamente sicuramente più a lungo di Aaron ecco ci puoi raccontare come è iniziata per te questo sodalizio che appunto è andato avanti per alcuni anni con Giulietto come è iniziato in che anno e come è iniziato beh intanto e devo dire Pier che per me è difficile è ancora difficile parlare di Giulietto al passato per il per il grande uomo che era perché per noi della redazione di Antimafia 2000 per me Monica lui è stato sempre un punto di riferimento importante nella mia vita sin da quando era una ragazza come dici tu sì io l'ho conosciuto tanto tempo fa l'ho conosciuto personalmente nella fine degli anni 90 tramite Giorgio direttore e all'epoca avevamo un un giornale che si chiamava Terzo Millennio che Anna ricorderà poi la la collaborazione è proseguita con con Antimafia 2000 e in particolar modo per quanto riguarda me dopo la pubblicazione del suo libro La guerra infinita che prima mi sembra avete citato dove lui aveva fornito una lettura incredibilmente lucida come solo Giulietto sapeva fare di che cosa i fatti dell'11 settembre del 2001 rappresentavano ecco per l'attentato le torri gemelle rappresentavano per l'intera umanità in cui lui diceva che quei fatti segnavano in qualche modo l'inizio di una battaglia per il dominio mondiale quella qui si è accennato anche all'inizio portata avanti da quello che lui definiva un impero un'elite un ponte di comando che poi avrebbe ben descritto in un successivo libro scritto a quattro mani con Marcello Villari intitolato Superclan ecco in quell'estate del 2002 subito dopo l'uscita della guerra infinita in redazione avevamo parlato molto della sua analisi perché era veramente un'analisi illuminante poi quello che abbiamo letto insomma in quel libro è quello che poi si è verificato negli anni a seguire Giulietto era sempre un po' profetico è stato detto diverse volte finora e insieme al direttore avevamo scritto una lunga recensione di questo libro e poi io lo avevo intervistato e da lì era iniziata con lui una collaborazione mensile perché lui ci aveva dato la possibilità di fare insieme a lui ogni mese il giornale usciva in forma cartacea mensilmente aveva dato la possibilità di fare ogni mese un'analisi con lui un'analisi dei fatti del mondo dei fatti di politica internazionale e per me quello fu l'inizio di una grande scuola perché Giulietto aveva la capacità di accompagnarti nel ragionamento di farti capire come leggere una notizia di andare dentro i fatti dietro quelle che erano le apparenze e di allargarti gli orizzonti lui cercava la verità oltre quello che definiva il mainstream aveva una capacità incredibile di collegare le notizie lui collegava le notizie i nomi e quella verità che trovava non aveva mai paura di gridarla anche se era scomoda anche se non piaceva il potere anche se dava fastidio perché come come anche molti video editoriali che stanno girando online per ricordarlo diversi insomma scritti è vero che lui era un giornalista vero un giornalista libero che affrontava con coraggio il potere e lo faceva perché era mosso da un sentimento d'amore l'amore è la prima parola che mi viene in mente quando penso a lui perché lui provava un grande amore per gli altri un grande amore per gli ultimi per i dimenticati e per questo penso fosse per questo che svolgeva con incredibile passione il lavoro che svolgeva sia quello di giornalista che quello di politico con quello spirito di ricerca della verità e della giustizia e Giulietta era una persona che di fronte alle ingiustizie non si dava pace io mi ricordo in riunioni private del gruppo di lavoro ricordo in particolare una volta che un collaboratore non era d'accordo a prendere posizioni troppo nette almeno pubblicamente contro l'uscita dalla Nato allora di Megachip e Giulietto si arrabbiò tantissimo mi ricordo che lui disse che per questo era disposto a dare la vita disse proprio io per questo ci muoio perché gli orrori della guerra li aveva visti li aveva documentati e li voleva fermare Giulietto era un grande pacifista e tornando al maestro giornalista che era era quella persona che tu andavi sempre a cercare quella voce che andavi sempre a cercare quando volevi avere una visione dall'alto di quella che era la situazione mondiale o di qualsiasi situazione si andava poi ad analizzare e la cosa bella è che dall'alto della sua della sua cultura perché lui era sicuramente uno dei più grandi intellettuali che la storia abbia mai conosciuto penso che lo possiamo dire senza timor di smentita lui parlava in modo semplice e lo faceva per raggiungere il più possibile la mente e il cuore di tutti aveva proprio questa urgenza di raggiungere tutti perché penso che i fatti dell'11 settembre avessero in qualche modo cambiato anche le sue idee e sentiva che si stava che questo grande impero stava avanzando e lui da questa parte della barricata vorreva insomma raggiungere più persone possibili per annunciare questo grave problema e vorrei raccontare un piccolo aneddoto lui aveva l'abitudine durante le conferenze di contare le persone presenti in sala era diventato anche un po' un gioco tra noi Anna se lo ricorderà sicuro le contavamo anche noi e poi ci confrontavamo sul numero eravamo arrivati a contare anche quante donne e quanti uomini erano per esempio e lui lo faceva proprio per sapere quante persone era riuscito a raggiungere anche quel giorno e poi contava quelle persone nel tempo e si faceva un calcolo per vedere quante persone aveva raggiunto in un determinato lasso di tempo e poi ci teneva a dire ai presenti che erano degli intellettuali raffinatissimi che si trovavano lì in sala invece che davanti a un televisore a guardare un film piuttosto che una partita di calcio poi la sera a cena lo ricordavamo sempre Giulietto anche questa volta sei riuscito a dirlo e lui ci spiegava che lo faceva perché voleva far sentire quelle persone in qualche modo responsabili di portare avanti quella conoscenza di acquisire quella conoscenza di portarla avanti anche ad altri per far sì che quell'incontro non fosse soltanto un incontro ma fosse l'inizio di qualcosa e che quel qualcosa doveva proseguire e camminare sulle gambe di tutti era convinto che se alla gente avessimo detto la verità il mondo sarebbe cambiato lui lottava per questo e diceva che la gente per bene era la maggioranza e che quindi se avessero saputo la verità avrebbero lottato per difendersi da un sistema che ci vuole privare dei nostri diritti ambientali e che ci schiacciano e che tutti insieme avremmo così potuto difendere il nostro territorio fisico e intellettuale come lo chiamava lui il territorio della mente e il territorio del corpo e su questo noi abbiamo avuto più volte anche degli scontri dei confronti accesi perché io gli dicevo che non ero assolutamente convinta grazie Monica prima di passare la parola ad Anna Petrozzi vediamo un altro contributo molto importante perché oltre a quello che abbiamo sentito nell'ultima clip di Giulietto Chiesa dove lui parla appunto di Google Facebook social network e del grande potere che hanno c'è un altro aspetto moderno della manipolazione mentale attraverso le emozioni un concetto che Giulietto dal grande professionista che era aveva ne aveva capito l'importanza e anche questo aspetto lui lo lo denunciava con grandissima forza con grandissima enfasi perché è un tipo di manipolazione che bypassa la nostra percezione cosciente che bypassa il nostro senso critico e quindi in grado di manipolarci senza che noi ce ne rendiamo conto l'informazione questo è un punto chiave l'informazione è una piccola piccolissima parte del problema l'informazione è sì e no il 5% di ciò che noi vediamo tutti i giorni accendete la televisione stasera chi di voi lo fa condolianze vivissime ma provateci per esperimento fate un po' di zapping tra un canale e l'altro scoprirete che 4 volte su 5 mentre fate lo zapping capitate sulla pubblicità passi da un canale all'altro e finisci sulla pubblicità poi durante se vedi un film sulla quarta per esempio la quarta rete c'è da diventare matti perché due terzi è pubblicità perché faccio questa osservazione perché in realtà l'informazione in questo sistema della comunicazione conta quasi niente quel poco che ti viene dato non è vero tanto per cominciare ma non è così interessante perché non coinvolge i sentimenti quando voi vedete una pubblicità adesso prendiamole una qualunque semplice non so dove si vede una famiglia che cena in preparazione del Natale voi vedete una messa in scena che è interamente falsa non esistono cucine così dal mondo neanche non esistono questi ambienti che noi vediamo tutti i giorni ma li vediamo a 40 milioni per volta vorrei che fosse chiaro noi 40 milioni di volte tutti insieme guardiamo questi ambienti come sono vestiti come sorridono le ragazze come si spogliano o non si spogliano che scarpe portano tutto questo è interamente ideologia che agisce a livello di massa in modo molto più importante che una notizia data dal mezzo busto sul telegiornale alla quale non frega niente a nessuno tutti lo guardano con distrazione ma questo lo vedono obbligatoriamente quindi noi dobbiamo capire che il potere di influenza psicologica è molto più complesso che la notizia falsa la notizia falsa vale 5 la comunicazione ingannevole tutta perché riguarda anche i talk show riguarda anche le trasmissioni di cultura pigliate un canale come Discovery Channel ti pensi che ti stanno raccontando come funziona il mondo o come vivono gli animali non è vero niente è in piena ideologia trasmettono idee in ogni immagine e lo fanno perché sono convinti trasferiscono per esempio questo che mi colpisce nel comportamento degli animali il comportamento degli uomini che non è vero nessun animale ha un comportamento simile all'uomo ma loro ti descrivono la natura in Africa assegnando agli animali un sentimento umano te li descrivono così come se fosse vero è interamente falso cioè in poche parole il 99% di ciò che noi vediamo e assorbiamo quando dico noi dico tutti dico milioni di persone dico la casalinga di Voghera dico la signora che sta in un basso napoletano e che ha la televisione accesa 24 ore su 24 salvo quando dorme tutta questa gente vede questo messaggio che è interamente falso quindi noi viviamo in un mondo totalmente fittizio il cui controllo dei bottoni è nelle loro mani e i bottoni quali sono? ma c'è Freud e tutta la psicologia l'analisi psicologica degli anni successivi ci ha dimostrato per esempio che se voi siete in grado di associare a un qualunque pensiero un'immagine che riguardi due questioni fondamentali quella del sesso e quella della paura e poi ci aggiungi quella del cibo che sono tre funzioni essenziali per la vita dell'uomo questo trucco viene usato sistematicamente sempre in tutti i messaggi allora se tu associ un'immagine di una bella donna a un telefonino tu hai ottenuto risultato non importa se il telefonino sta in primo piano o in un angolo dell'immagine io mi ricordo lo racconto spesso una volta sono sceso qualche tempo fa sono sceso da Milano alla stazione centrale e c'era il palazzo della regione che era interamente coperto da un'immagine alta 30 piani di una bellissima donna seminuda e uno guarda diceva che cosa sta pubblicizzando cioè per trovare che cosa volevano pubblicizzare bisognava guardare vicino al suo piede vicino al suo piede c'era un telefonino Samsung me lo ricordo come se fosse adesso cioè 30-40 metri di pubblicità con un telefonino vicino al piede 20 centimetri hai capito come funziona ma è la prova come dire clamorosa dell'uso del sesso come meccanismo indotto cioè i tuoi occhi guardano il sesso ma memorizzano tutta l'immagine anche il piede e ti rimane impresso accanto al sesso personalizzato il telefonino tu questo non lo controlli perché tu controlli intellettualmente solo la parte centrale dell'immagine che tu vedi è quella che tieni nella tua memoria così come quando guardi uno schermo tu guardi il centro dello schermo ma nello schermo non c'è solo il centro c'è tutto quello che sta intorno e il tuo cervello registra tutto quello che c'è intorno mica solo il centro solo che il centro tu lo scegli perché la tua attenzione sta sul centro ma il resto non è la tua attenzione che lo memorizza è il riflesso condizionato che tu incameri e che mantieni nella tua memoria per tutta la tua vita non so se è chiaro quindi per esempio associare la paura a una qualunque immagine distrugge quell'immagine perché tu raccoglierai quell'immagine ma anche la paura che hai provato o hai condiviso e mangiare mangiare è fondamentale il mangiare se non mangi non bevi se non bevi non vivi quindi tutto ciò che è legato al piacere di assorbire il cibo o di bere diventa crucialmente importante perché un'idea venga fissata nella tua memoria in questo caso specifico avviene perché tu comperi cioè questo serve a che tu comperi ma voi pensate che tutto questo sia centrale? No per quelli che controllano il nostro sguardo visuale la nostra capacità percettiva è molto importante invece che cosa pensiamo che cosa pensiamo non che cosa compriamo e quindi loro vogliono associare quello che noi pensiamo a quello che loro decidono che sia buono o cattivo mentre sto facendo questo discorso mi viene in mente che adesso lo usiamo lo voglio usare come una lezione di giornalismo perché questa è una lezione di giornalismo pensate che la gran parte dei giornalisti di questo non sanno nulla e quindi i primi che ci cascano sono loro quindi diventano strumenti della comunicazione ingannevole questo è un modo per modificare è molto importante che ci siano in molti a saperlo perché questa è una forma di difesa una volta che hai capito una volta che hai capito il meccanismo tu diventi come dice sei alfabetizzato il problema cruciale è che noi abbiamo per esempio una scuola che ti insegna a fare le aste e poi a scrivere A, B, C, D e non ti insegna niente sull'alfabetizzazione delle immagini non sappiamo nulla usciamo dalla scuola dalla prima elementare o dall'asilo fino all'università senza sapere leggere un'immagine noi non siamo capaci di leggere le immagini e per questa ragione siamo estremamente vulnerabili andiamo ad Anna Petrozzi ciao Anna di nuovo ciao grazie anche a te per esserci grazie a te che ci chiamiamo questo grande uomo questo grande amico mi accodo a quello che hanno detto sia Aaron che Monica anche per me la notizia della sua morte quella mattina del 26 mi ha colto assolutamente incredulo considerando appunto che fino alla sera prima ma Giulietto era in diretta a lanciare i suoi strali e i suoi sproni alla società per questioni di organizzazione della redazione tu hai avuto un po' meno a che fare direttamente con Giulietto rispetto a Monica però anche tu hai condiviso con lui delle cose importanti ad esempio un viaggio in Argentina cosa ci puoi raccontare di questo? ma intanto non mi ripeto su quello che già è stato detto di Giulietto personalmente posso dire che quella domenica mattina guardavo Vauro e ho pensato vabbè Vauro scherza però no non può scherzare su questa cosa infatti colta dall'angoscio ho chiamato subito Aaron controlla sta cosa perché Aaron è il controllore delle notizie controlla questa cosa perché non può essere perché nella mia idea uno come Giulietto non può morire capito è una contraddizione in termini è uno spirito eterno non so che è così pieno di vita così assolutamente gioioso intelligente brillante vitale con la morte sai uno stimolo le due cose il cervello non riesce a metterle insieme quindi ci è voluto un po' per riuscire a digerire la notizia rendersi conto che è vero anche se dirti la verità prima guardavo i video mi sembra ancora impossibile sinceramente l'argentina era il 2009 andammo con Giulietto Giorgio la famiglia di Giorgio in Argentina a Buenos Aires e a Rosario per partecipare a un convegno di antimafia e Giulietto era un maestro in tutto non solo di giornalismo noi a me e a Monica hanno insegnato veramente tutto da questo punto di vista perché avevamo veramente delle ragazzine quando abbiamo cominciato a lavorare con lui per quando veramente era a fine degli anni 97 Monica credo quella delle date sei tu io me le ricordo 97 quindi proprio bambine muovevamo i primi passi nel mondo della professione quindi Giulietto era ascoltare Giulietto era come bere l'acqua poi è questa cosa straordinaria che noi eravamo veramente alle prime armi lui ci invitava io e Monica ci trovavamo in questi scenacoli di gente intellettuale importantissima politici insieme a grandissimi uomini dello spettacolo gente che è stata dietro le quinte anche di manovre politiche noi che eravamo veramente giovanissime io mi ricordo di essere mai stata così zitta in vita mia quando andavamo a questi convegni perché imparavamo era carta dobbiamo essere carta assorbente perché ascoltavamo tutte Giulietto non ci ha mai parlo per tutte e due Monica ma penso di poterlo fare non ci ha mai fatto sentire le ragazzine o meno importanti o meno intelligenti cioè l'opinione di chiunque per lui era importante ascoltava a tutti chiedeva tutto e mi ricordo questa cosa in Argentina che è la sua curiosità straordinaria quella di chiedere a chiunque dal barbiere in un angolo di rosario all'intellettuale al professore all'avvocato al giornalista e quindi un continuo imparare e poi era divertente anche dal punto di vista umano perché Giulietto era un uomo anche molto simpatico c'era questi baffoni sorridenti quella luce negli occhi sempre viva il ciglio che si si piegava quando una cosa gli andava storta erano veramente straordinari stargli vicino e mi ricordo in questo viaggio in aereo un aereo strapieno penso che fosse Roma o Buenos Aires non mi ricordo quindi eravamo un po' accalcati eravamo tutti vicini e lo vedo Kino sul tavolino sai quello stretto dei le cose con un quadernetto che scrive in cinese io ho studiato lingue quindi è una mia curiosità per se non vado lì e dico che stai facendo sto imparando il cinese e mi spiegava tutta sta cosa degli ideogrammi mi ha spiegato come funzionava e che lui si imparava un tot si era messo in testa di impararsi un tot di parole al giorno imparava come si scrivevano come le pronunciava con una marcata a cadenza piemontese una cosa straordinaria che lui il cinese lo studiava dal russo quindi c'era questo quadernetto questo libro tra l'altro vecchissimo anche malconcio in cui andava a prendere le parole e quindi ecco qualsiasi cosa tu cioè quando vi vicino Giulietta imparavi imparavi qualsiasi cosa quindi andammo a Buenos Aires facciamo questo convegno anche lì parlò non so ripetere chiaramente tutto quello che hanno già detto della situazione del mondo e collegamenti ascoltava mi sorprendeva tanto la capacità che aveva di ascoltare anche quando eravamo a Palermo siamo stati abbiamo partecipato a tanti convegni insieme antimafia quando io non ricordo più l'anno che siamo stati assieme che lui fu relatore un paio di volte anche relatore e mi ricordo l'attenzione con cui veramente ascoltava tutti la gente Salvatore Borsellino però questo mi ha trasmesso come giornalista come uomo la curiosità la voglia di sapere l'umiltà di ascoltare sempre tutti l'attenzione a qualsiasi cosa questo fatto poi di saper leggere attraverso le righe veniva secondo me proprio da questo che lui osservava tutto e il suo atteggiamento era come io devo imparare sempre comunque da chiunque e questo per me come come Anna come persona è una delle cose più belle che ho imparato da lui e che manterrò proprio come un tesoro un tesoro un grande lascito questo che Giulietto mi ha lasciato come insegnamento di vita allora prima di tanto grazie Anna prima di andare avanti mando un filmato che tratto sempre dalla conferenza che si fece a Sant'Elpidia Mare La forza dello spirito e poi interverrà di nuovo dall'America Latina Sonia Bongiovanni che ci darà un suo commento da ragazza da giovanissima sulla figura di Giulietto e poi torneremo a noi per la seconda tornata di ricordi su Giulietto Chiesa quindi mandiamo questo filmato voi rimanete in linea non ve ne andate proseguiamo la notte ancora giovane il sistema cerca la nostra indifferenza conosce la nostra forza e vuole tenerci a bada per paura Our Voice è nato per dare una voce una speranza siamo giovani e non indifferenti vogliamo portare avanti una rivoluzione e realizzarlo attraverso la sola ed unica componente che oggi è capace di mostrare la bellezza e l'unicità dell'uomo l'arte la cura l'antidoto a quel gran male che attraverso tutti quei delitti i genocidi e l'assurda mentalità egoista indifferente oggi sta rendendo la nostra specie disumana dobbiamo fare qualcosa per cambiare il nostro domani perché solo così cercando di lavorare per un cambiamento potremo ottenere un domani migliore sentendoci finalmente liberi nell'anima non importa di dove siamo dove viviamo quale religione pratichiamo che colore della pelle che abbiamo vogliamo abbattere le bandiere e distruggere le frontiere siamo tutti esseri umani una sola voce la nostra voce grazie 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 da vero questi sono alcuni dei ragazzi che fanno parte dei nostri gruppi qui abbiamo la rappresentante del nostro gruppo in frioli altri ragazzi e femmine sia Giulia noi delle marche ce ne sono tanti tanti altri e si stanno venendo a noi sempre più giovani sempre più ragazzi questo è il nostro obiettivo cercare di far sentire liberi nell'anima ai ragazzi perché questo manca nella nostra società e questo serve quindi grazie ancora a tutti Giulietto abbiamo appena visto un gruppo di giovani che protestano attraverso l'arte la bellezza protestano cosa? una società a che loro non piace vedono guerre vedono mafie vedono sofferenze abbiamo intitolato questo dibattito la forza dello spirito e come difenderci dai quadri universali allora iniziamo subito entrando nel cuore chi sono i padroni universali se è vero che sono padroni se è una loro congettura dove si trovano e come possiamo difenderci poi magari entriamo nel merito di quello che tu ci dici ma iniziamo così a livello generale per capire un po' di che cosa si tratta voglio fare una premessa per collegarmi a quello che abbiamo visto perché mentre vedevo questo spettacolo che è già uno spettacolo maturo però pensavo che dovremmo un po' abituarci tutti a ragionare come loro hanno ragionato due minuti fa cioè noi siamo abituati ancora a pensare alla politica come luogo della ragione e della parola e qui c'era parola ma c'era anche qualche cosa che non è ragione e che non è parola è movimento è arte è un altro modo di esprimersi ora siccome noi stiamo entrando questo ha già a che fare con il discorso dei padroni universali siamo già entrati in un'epoca in cui la politica è spettacolo è tutto spettacolo e quindi il ragionamento e la parola stanno perdendo spazio nella comunicazione tra gli individui lo spettacolo diventa il centro dell'attenzione e se noi non riusciamo a impadronirci di questo spazio e continuiamo a ragionare a ragionare logicamente non riusciremo più a parlare con nessuno è un linguaggio che diventa sempre più raro e quindi questo è un bel esempio è un bel esempio introdurre la musica il movimento la danza e tutta una serie di altre infinite variazioni sul tema che non siano squisitamente quelle della parola e della ragione sarà fondamentale fa parte dei compiti del futuro diciamo se vogliamo liberarci adesso parlerà Sonia Bon Giovanni Sonia Tabitha Bon Giovanni che è la leader di Our Voice un movimento giovanile che attraverso l'arte attraverso la musica il ballo il canto si prefigge di portare avanti una battaglia sociale una battaglia per la legalità una battaglia per l'uguaglianza quindi mandiamo in onda Sonia Bon Giovanni leader di Our Voice Buonasera Ciao Buonasera a tutti Bene abbiamo visto prima questo video dove dopo un vostro spettacolo a cui Giulietto Chiesa ha assistito lui ha fatto un commento molto bello non di parte io conoscevo già da anni Giulietto non era un commento di parte non era un commento giusto perché era nostro amico amico di tuo papà ma perché da quello che io ho potuto vedere ero presente anch'io lui ha davvero gradito e apprezzato la vostra performance cos'è stato per te Sonia e per il movimento Our Voice Giulietto Chiesa Giulietto Chiesa innanzitutto è stato un grandissimo maestro sotto vari aspetti un maestro di vita un esempio di vita un esempio di lotta contro tutte le ingiustizie sociali lotta contro ogni tipo di guerra ogni tipo di violenza e per noi è stato un grande onore averlo con noi varie volte abbiamo avuto l'opportunità appunto come come dicevi più tu Pier di presentarci davanti a lui presentare i nostri spettacoli o presentare anche in altre conferenze che abbiamo fatto che abbiamo partecipato altre sue conferenze presentarci come movimento e presentargli anche dei progetti a cui stiamo lavorando l'ultima conferenza che ha fatto insieme a noi e insieme anche a mio padre Antimafio 2000 è stata se non mi sbaglio nel mese di dicembre circa nel 2019 e è stata noi che lo seguiamo da un po' di tempo una delle conferenze più belle che davvero a cui abbiamo partecipato in sue conferenze dove ci ha perfettamente come lui sempre sapeva fare ci ha mostrato quella che è tutta la situazione mondiale a livello politico a livello sociale ci ha spiegato proprio saggiamente qual è il momento in cui ci troviamo quali sono le circostanze i problemi più grandi in cui ci troviamo in questo pianeta e soprattutto dove puntano quindi lui parlava sempre appunto di coloro che hanno il potere mondiale nelle mani di coloro delle famiglie più ricche del mondo e di tanto altro però quello che ci è piaciuto è che noi in Giulietto non vedevamo un pessimismo ma al contrario vedevamo proprio un ottimismo in quello che poteva essere un cambiamento a livello mondiale spesso ed è soprattutto quello che ci ha trasmesso alla fine della conferenza di quella giornata quando ci ha detto siete voi giovani voi ragazzi che dovete continuare questa lotta siete voi giovani che dovete studiare acculturarvi informarvi per capire chi ci comanda chi ci governa e per non farti per ribellarvi a quel sistema che è deleterio per il mondo quindi proprio lui è stato un grande referente per tutti noi io come dicevi tu ho avuto anche le opportunità di conosciuto quindi da bambina e niente appena abbiamo saputo la notizia ci si è davvero stretto il cuore perché era un grande capostipite era un grande anche un grande scudo una grande forza che noi sentivamo in qualche modo vicino per illustrarci cose che noi non sicuramente non potremmo capire senza grandi referenti come lui Per te a livello personale come lo vedevi Giulietta un maestro un papà un amico No io sicuramente l'ho visto come un maestro come un grande esempio come un amico di mio padre e della redazione antimafia e e quindi anche personalmente poi un uomo veramente una una persona bellissima ma anche a parte da quello che ho potuto vedere oltre alla sua conoscenza alla sua saggezza alla sua intelligenza proprio una persona splendida appunto con un grande parcasmo e un grande carisma questo che mi ha sempre colpita fin da bambina e in qualche modo noi quello che dicevo prima è che adesso stiamo lavorando a dei progetti proprio ispirati a lui a tutta l'informazione che lui ha sempre pubblicato e quindi adesso era proprio nostra intenzione magari un giorno potergli raccontare tutto quello che stiamo facendo però lo facciamo comunque lo facciamo comunque pensando a lui e secondo me quello che mi sento di dire è che tutti i progetti che portiamo avanti sono in qualche modo anche grazie al suo impegno e quindi ci sarà sempre Giulietto Chiesa in ogni parte in ogni attività e anche nell'attività di Our Voice dei ragazzi ti lascio con un invito una specie di sogno di fantasia ecco tu adesso hai davanti Giulietto e sai che lui parte per un lungo viaggio e che lo rivedrai dopo tanto tempo cosa gli diresti? eh io penso intanto gli racconterei quello che stiamo facendo più o meno quello che ho detto adesso e anche quello che ho detto abbiamo detto come movimento in un video che abbiamo condiviso nei nostri social salutando Giulietto Chiesa io lo ringrazierei perché tutto quello che ha fatto non è stato non è rimasto vano e tutto quello che ha fatto è davvero servito a tantissime persone in tutto il pianeta e a noi ragazzi principalmente ci sta proprio ispirando lui al progetto che stiamo portando avanti adesso di cui poi parleremo nel nostro sito web nei nostri social e quindi lo ringrazierei tantissimo e direi che lui davvero ha detto tutto che per quel poco che abbiamo avuto onore di vivere con lui per quello che abbiamo letto da lui ho sentito parlare da lui ha davvero detto tutto ha davvero parlato di tutto quindi niente ringraziarlo e dirgli che ora tocca a noi far sì che tutta quell'informazione quell'impegno sociale quella lotta quel coraggio continuino a vivere quindi solo noi possiamo permettere che lui continui a vivere vi direi questo e lo ringrazierei grazie Sonia un saluto a te ai ragazzi di Our Voice spero di riavervi presto in Italia e così ci riabbracciamo e parleremo di progetti futuri non so se Sonia si ricorda quando eravamo in Argentina visto che eravamo insieme e lei era piccola piccola te lo ricordi te lo ricordi la scena che sei andata nella camera di Giulietto perché eri curiosa di vedere quel bagno che aveva te la ricordi la scena no no ma io ho scritto per lui un giorno mi hai preso per mano e mi hai accompagnato al cammino della verità ho scritto una cosa del genere però perché veramente lui mi ha preso per mano io mi ricordo perfettamente proprio il momento in cui io io gli dico sì sì vengo vado con lui c'è proprio il stress che fanno su siamo andati insieme sulla camera e lui mi dice guarda dopo c'era la jacuzzi e tu guarda io proprio mi ricordo perché c'aveva quel bagno fatto con tutto quel vetro sono andati insieme mi ricordo unico 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 sì sì me lo ricordo beh ricordiamo Giulietto sotto tanti aspetti quindi assolutamente diciamo unico questo per dirti per quello che dicevo prima cioè che poteva avere di fianco Gorbaciov o Putin oppure essere sensibilissimo alla curiosità di una bambina che semplicemente voleva mostrarle questa perché lui era capitato in una camera che c'eva sto bagno particolare quindi questa io me la a parte mi ricordo di lei piccola ma mi ricordo proprio questa ecco questo di Giulietto che ti tentavo di spiegare prima chiunque in qualsiasi momento in qualsiasi modo lui aveva modo di insegnare o comunque di mostrare di guidare infatti immaginavo che te lo ricordassi anche se eri piccolina no per me per me quel momento è stato importante oltre a a tutto perché cioè io veramente lui un uomo come lui e l'ho capito ovviamente nel tempo negli anni nella crescita mi ha preso per mano e la cosa che mi ha emozionato molto quando appunto abbiamo ricevuto la notizia è questo che io l'ho diciamo l'ho l'ho sentita l'ho vissuta come se veramente mi ha preso per mano in qualche modo ha preso per mano tutti i ragazzi e ci ha mostrato quella che è la verità quella che lui professava e diceva che stava avanti quindi bellissimo e la stanza dal bagno coi tanti specchi perché la verità ha tante facce ma no era tutto trasparente era una stanza stranissima guarda era troppo forte siccome lei lui l'aveva raccontato lei la voleva vedere lui la prese ha fatto a vedere piccola piccola la prese è andata capisca Pier se posso o meglio la verità è una ma tante rappresentazioni diciamo la tutta perché se no poi sai come sì Monica prego poi arriviamo alla parola se posso introdurre i miei sentimentalismi sì ma ma come è più sentimentale è una sorpresa no ma grazie mi è emozionato tanto il discorso di Sonia perché perché Giulietto amava tantissimo i giovani e lui cercava costantemente un modo per raggiungere noi passavamo ore a dialogare con lui a cercare di capire quale fosse il linguaggio migliore per raggiungere i giovani Anna sicuro se lo ricorderà parlavamo tanto di questo argomento gli dicevamo che forse dovevamo un po' svecchiare quella che era la comunicazione no delle prime fasi di Bandora successivamente anche di alternativa ma lui avrebbe tanto voluto avere un gruppo di giovani al suo fianco e c'è un po' di rammarico perché adesso che questo sogno in qualche modo si poteva realizzare si poteva coronare con i ragazzi ecco che proprio adesso lui si è venuto a mancare questo mi crea sinceramente un po' di dispiacere perché immagino insomma che lui fosse molto attratto come anche tu mi confermi da questo gruppo di ragazzi che fanno veramente delle belle cose io penso che lui sarebbe stato felicissimo di collaborare con loro purtroppo non ha avuto questa opportunità e nemmeno loro purtroppo hanno avuto l'opportunità di conoscerlo da vicino anche nel lavoro perché Giulietto veramente ha tanto da insegnare Aaron un incontro in treno a dimostrazione della grande semplicità pur nella grande notorietà che aveva Giulietto un giorno lo incontri in treno ci racconti questo aneddoto ma guarda è una cosa un po' così particolare siamo parliamo ormai di qualche anno fa ma nel breve penso se non erro 2016 massimo 2017 mi trovavo a Gubbio con quella che era al tempo la mia ragazza e niente ci trovavamo lì a tornare a casa per andare ad Ancona e tornare a casa nelle Marche e entro in treno e me lo trovo davanti parato nella carrozza e lo incontro ci salutiamo e nella massima semplicità volendo poteva benissimo dirci magari non sedetevi oppure che ne so non salutarci e basta invece ci invita a sedere accanto a lui e per tutto il viaggio dalla stazione di Gubbio Fosso di Vico se non erro fino ad Ancona a raccontare non solo quelli che erano i progetti che in quel momento stava portando avanti con Pandora o chiedeva cosa stessimo facendo in quel momento con Antimafio di Mila chiedeva sempre come stava come stava la relazione come stavano i ragazzi come stavano un po' tutti ma anche raccontare fare una piccola conferenza lui stava andando a fare una conferenza ad Ancona non so quali delle tante se era per Pandora o sui massimi sistemi mondiali o chissà cosa in questo momento non me lo ricordo però praticamente riusciva in qualche maniera a dedicare del tempo comunque a due persone che per quanto potevano essere comunque a lui note però non si risparmiava raccontando vari aspetti di sé anche quelli se vogliamo per certi aspetti più più intimi e personali perché comunque si lasciava andare anche a considerazioni sue prima Giorgio diceva magari in pubblico dice una cosa non che ne dice un'altra nel privato però arricchisce di elementi però Giulietto ci ha insegnato proprio questo uno degli elementi che mi ricordo ai tempi di Zero il documentario sull'11 settembre lui diceva abbiamo fatto l'inchiesta mettendoci insieme in team e laddove c'era solamente una persona che non era perfettamente convinta della ricostruzione allora quell'aspetto lo scattavamo è interessante come punto di vista e come approccio scientifico Pier tu me lo insegni perché chiaramente porti un gruppo di persone a farsi delle domande però laddove l'anello sembrava debole veniva scattato e questo diventa importante perché è così che si crea e si sviluppa lo spirito critico e oltre a questo c'era anche l'aspetto bello di Giulietto era che lui era una persona che si interessava veramente a tutto ogni singolo dettaglio non solo di quello che riguardava il lavoro ma anche della vita personale delle persone cioè lui si interessava a cosa facevano come vivevi la vita qual era la tua visione della vita ti insegnava per certi versi a guardare in modo diverso il colore stesso che ha la vita perché la vita è preziosa e deve essere vissuta in ogni suo singolo aspetto e momento anche una semplice chiacchierata in un treno regionale o interregionale o una cena occasionale che può capitare post conferenza diventava sempre un'occasione unica per confrontarsi ma soprattutto crescere l'un l'altro questo penso che sia l'insegnamento più grande e umano che ci ha lasciato Giulietto Chiesa grazie Aaron Anna una ultima tua battuta su questo grande uomo e su questo grande amico scegliere così davvero ti posso dire delle esperienze diciamo più significative più importanti sicuramente il viaggio che abbiamo fatto con Monica a Bruxelles quando ci ha invitato a presenziare a quel convegno coraggiosissimo e lungimirante come era lui che aveva organizzato proprio nella sede del Parlamento europeo invitando Luca Mercalli per affrontare il problema dell'emergenza climatica e portare anche perché né lui né Luca Mercalli erano persone che avevano per lì sulla lingua quindi non è che lì nella sede del diciamo nel cuore politico dell'Europa disse con grande coraggio mi ricordo che era particolarmente teso Monica corregimi se mi sbaglio era particolarmente teso per questo evento e per la concentrazione immagino per l'enorme sforzo che stesse facendo di organizzazione di tutto perché dall'Italia andammo in molti a presenziare a quell'evento e lì nella sede del Parlamento europeo dire in tempi non sospetti che già la situazione del nostro pianeta era drammatica e mi ricordo l'esempio che fece Luca Mercalli come assimilava gli esseri umani a come quei batteri che si mangiano il terreno di cui vivono e che presto noi avremmo fatto la fine di quelli che non avevano più niente da mangiare e quindi lo disse così mi ricordo l'attenzione anche all'interno del Parlamento europeo dove non credo che siano tanto abituati a sentire discorsi infatti in questo modo con questa schiettezza e quindi tu con lui passavi da questi momenti così importanti quello è stato uno forse delle cose più importanti a cui ho partecipato nella mia vita quindi un'altra cosa di cui devo ringraziarlo veramente perché mi sono ho preso molta coscienza in quell'evento di che cosa potrebbe fare la politica davvero se ascoltasse chi ha cose intelligenti da dire senza entrare in polemiche e poi allo stesso tempo era Giulietta che poi la sera andava a cena e lui faceva questi brindisi in cui raccontava aneddoti brindava alla vita e c'era sempre allegria quindi era veramente un'esperienza quella di Bruxelles per me è stata con lui è stata tra le esperienze più belle che abbiamo fatto ce ne sarebbero molte altre però non so Monica qui potremmo aggiungere un elenco infinite di cose però quella di Bruxelles anche perché ecco lì usciva anche il Giulietto professionista la serietà l'attenzione ai particolari la professionalità anche in quello era tutto da imparare veramente più passa nei giorni e più anche chiacchierando fra di noi vengono fuori i ricordi più veramente mi ricordo che stare con lui era apprendere sempre costantemente continuamente in ogni occasione in ogni cosa anche perché veramente essendo un uomo anche di una certa età avendo vissuto tanto intensamente aveva veramente sempre qualcosa da trasmetterti era guarda è stato veramente un privilegio grande questo lo dico per la mia vita immenso e anche l'insegnamento sai cosa se penso come potrei definire la cosa che mi piaceva più di lui era la sua grande libertà perché lui era così quello che pensava come ha detto Aaron prima o Monica prima ricordava la convinzione di un'idea cioè la libertà lui anche se una volta che era certo di una cosa non gli importava dove come quando con chi che cosa cioè se era la sua quel momento la sua verità quella in cui credeva perché l'aveva approfondita la voleva portare avanti e lo faceva senza curarsi nulla cioè la cosa più bella penso che mi abbia trasmesso è il fatto di non avere paura cioè non aveva paura aveva quella libertà interiore che hanno le persone che non hanno paura che sono pochissime sinceramente nella vita ne ho incontrate davvero poche e lui è stato uno di questi quindi non so cos'altro potrei grazie Anna Monica un'ultima battuta tu ovviamente potremmo fare una serie su Netflix ma dobbiamo avere pietà sia per noi stessi sia per quelli che ci stanno ascoltando quindi prego Monica poi intanto Sonia anche tu pensa qualche altra cosa che senti di dire su questo grande personaggio e dopo ci saluteremo con un bellissimo video sempre di questo incontro di fine anno scorso dove Giulietto parla della difesa del territorio a modo suo ovviamente prego Monica questo incontro di Bruxelles che ha ricordato Anna aveva colpito molto anche me in realtà Giulietto era molto cambiato dopo che era entrato nella commissione temporanea sul cambiamento climatico perché lì aveva da parlamentare europeo perché lì aveva attinto a tutta una serie di dati molto preoccupanti che evidenziavano come stavamo andando verso il baratro quindi lui quest'urgenza che già sentiva da quel momento l'ha cominciato a sentirla sempre di più e quindi sempre di più si era attivato in ogni modo possibile per contrastare l'avanzata di questo grande impero che aveva i piedi d'argilla lui lo chiamava la scimmia mi ricordo che ad un convegno di alternativa lo chiamò così perché univa cioè perché questo c'è questo ponte di comando in realtà lui spiegava sempre non si rendeva conto del pericolo a cui andava incontro lui stesso perché era convinto in qualche modo di poter sfuggire indenne al disastro che stava che stava causando mi ricordo che ci consigliava sempre di guardare un film del 2012 probabilmente qualcuno l'avrà visto il film di Roland Emmerich si chiamava 2012 proprio ecco dove c'erano queste grandi arche mi ricordo nel quale i più ricchi quelli che avevano insomma più possibilità economica potevano entrare per salvarsi da questo cataclisma di dimensioni apocalittiche e ci diceva che secondo lui questi ricchi del mondo quelli che abbiamo ricordato anche prima si stavano preparando ad una cosa del genere erano convinti di potersi salvare in qualche modo quindi per lui quel film non era una vera e propria fantascienza però detto questo insomma questo impero così folle profondamente astuto quanto profondamente stupido aveva spinto Giulietto a fare una serie di ragionamenti e per questa sua insomma questa sua capacità di parlare di questi di questi temi anche con coraggio era profondamente ammirato ma una cosa che non abbiamo detto finora è che era anche profondamente solo perché pochi riuscivano a sentire come sentiva lui l'urgenza di fare qualcosa pochissimi erano disposti a sacrificarsi al suo fianco per portare avanti anche questa battaglia che era se vogliamo la battaglia di un uomo illuminato di un maestro lo possiamo definire così perché vedeva più in là di noi e con una chiarezza che era anche disarmante al dispetto insomma del suo caratteraccio perché un caratteraccio lo aveva forse il caratteraccio degli uomini forti aveva anche una profonda dolcezza d'altra parte una profonda pazienza la pazienza di accompagnare chi sapeva ascoltarlo la pazienza di ripetere centinaia di volte le stesse cose nella speranza che queste sue parole potessero poi aprire i cuori elementi ma soprattutto i cuori perché Giulietta era un po' con il cuore che lo sentivi quando parlava c'era qualcosa che andava oltre la parola e nei tanti anni di lavoro con lui poi questa solitudine l'avrei sentita sempre di più io mi ricordo un giorno a Roma era una manifestazione contro il governo dell'epoca che stava invitando il presidente degli Stati Uniti Bush fu una grandissima manifestazione la ricorderete perché portò in piazza circa 30-40 mila persone e noi eravamo al suo fianco perché lui da parlamentare europeo e Megachip come associazione erano stati tra i promotori di questa manifestazione e stavamo distribuendo alla folla presente un volantino che aveva scritto lui nel quale spiegava a grandi linee questa battaglia decisiva che lui stava portando avanti chiamava tutti ad unirsi come faceva sempre in un'unica grande battaglia per il bene comune contro la guerra e mentre facevamo questo diverse persone si avvicinavano a lui si complimentavano con lui per le sue battaglie per i suoi articoli per quelle poche per la verità apparizioni in televisione tra questi si avvicinarono mi ricordo anche i genitori di Carlo Giuliani il manifestante ucciso durante i fatti del Giotto di Genova e in quell'occasione ricordo che il vice direttore Lorenzo Baldo che era con noi aveva sottolineato con gioia questo fatto che la gente insomma gli dimostrasse così il proprio effetto e invece lui per un attimo aveva perso quell'entusiasmo che lo caratterizzava sempre se invece era buiato e aveva sospirato qualcosa come se se solo avessi con me una trentina di collaboratori che mi potessero aiutare io farei grandi cose e poi quella questo chiaramente aveva rattestato molto anche noi che eravamo lì e quella quella solitudine l'avremmo poi toccata con mano anche successivamente perché molte persone a lui apparentemente vicine poi lo avrebbero lasciato per divergenze varie poi senza voler giudicare nessuno per carità perché era molte volte mi era detto che insomma dovesse essere per forza d'accordo con lui però alla fine della conta è chiaro che lui è rimasto è rimasto solo in molte delle sue imprese certo e questo è qualcosa che fa male i grandi uomini hanno difficoltà a trovare persone con la loro passione la loro determinazione la loro perseveranza grazie Monica Sonia prima di lasciarci un'ultima battuta anche da te sì no io quello che mi sento di dire come dicevo un po' prima è il fatto che appunto lui come diceva Monica da un lato era anche solo spesso era lasciato solo per per le verità che portava avanti quindi io mi sento di parlare a noi ragazzi e di parlare ai ragazzi ai giovani e di dire che appunto quella è è una lotta che appartiene a noi la lotta appunto di sapere chi ci comanda la lotta di attraverso l'informazione di Giulietto riconoscere quello che non ci raccontano a scuola quello che non ci dicono nei libri di scuola di come sono andati tanti fatti che sono conosciuti a livello mondiale noi abbiamo una visione invece la realtà è un'altra una realtà che Giulietto ha sempre testimoniato ha sempre portato avanti e quindi che dipende solo da noi da noi dipende molto più che solo da noi ragazzi noi abbiamo il ruolo di rendere veramente sempre più cioè rendere mondiale attraverso i movimenti giovanili attraverso l'arte come può essere Our Voice attraverso tutte le associazioni comunque tutti i giovani impegnati nel sociale e non del mondo non solo del nostro paese appunto abbiamo quel compito secondo me di di prendere quell'informazione e studiarla e poterla raccontare raccontare esprimere attraverso la passione che abbiamo attraverso quello che amiamo più fare ma poter denunciare quello che lui stesso denunciava quello che ha sempre detto Giulietto Chiesa e portarlo a tutti i ragazzi del pianeta per fare davvero una una rivoluzione culturale sociale per lottare per un mondo totalmente diverso grazie Sonia grazie Aaron grazie Anna e grazie Monica per questa serata passata insieme a conoscere un grande uomo un grande professionista un grande amico che tutti noi abbiamo avuto il piacere il privilegio e l'onore di conoscere grazie a voi salutiamo il pubblico che ci sta ascoltando con questo altro brano di questa conferenza di fine anno scorso 2019 dove Giulietto appunto parla dell'importanza della difesa del territorio buona serata a tutti ciao Pier grazie ciao a tutti ciao ciao regia film collegandomi al discorso della crisi mondiale del fatto che noi viviamo in un mondo che è profondamente diseguale profondamente ingiusto un mondo dove prevale la violenza dei più forti un mondo dove i più forti non sono controllabili dei più deboli e diventeranno sempre meno controllabili dei più deboli pensare che tutto questo abbia un esito pacifico è una grande illusione una grande illusione questa ipotesi di mondo futuro che ci viene presentata e che ci stanno realizzando senza consultarci è un'ipotesi che presuppone per forza di cose lo scontro e lo sterminio di una parte importante dell'umanità quindi il pericolo sta diventando molto più grande ed è connesso con la diseguaglianza che caratterizza questo mondo noi dobbiamo a questo punto essere consapevoli della necessità di organizzarci per difenderci non c'è altro da fare noi dobbiamo imparare a difenderci in modo tale che non ci possono colpire e difenderci in questo modo significa difendere il nostro territorio il territorio però deve essere inteso in termini vasti il nostro territorio è il nostro cervello primo cioè i nostri pensieri dobbiamo difendere i nostri pensieri sembra una cosa assurda invece no è molto importante difendere i nostri pensieri poi difendere il nostro corpo perché il nostro corpo è la nostra vita senza il quale non potremo vivere e difendere il nostro territorio vuol dire difendere dove camminiamo dove camminano i nostri figli dove studiano dove lavoriamo dove ci incontriamo e noi dovremmo costruire mille diecimila centomila punti di resistenza di uomini e donne consapevoli che la difesa del loro territorio è cruciale bisogna impedire che ci bombardino tutti i giorni ma per far questo non basterà fare un nucleo perché un nucleo sarà facilmente eliminabile bisogna costruirne mille diecimila e bisogna fare sì che quelli che dovranno reprimerci sappiano che loro stessi saranno le vittime di ciò per cui loro ci reprimeranno dobbiamo avere un grande sistema di popolo che reagisce e questo comporta la creazione di quadri capaci di capire e spiegare non abbiamo altra soluzione se sono qui e ci sono venuto apposta perché sapevo di trovare dei giovani ci sono venuto perché voi questa cosa la dovrete fare nessun altro che voi voi questa sera avete imparato un pezzo della vista futura che vi riguarderà e voi diventate dei protagonisti di questa lotta se noi moltiplicheremo questo incontro per centomila noi diventeremo molto più potenti perché nessuno potrà venire a imporci la sua scelta dei nostri pensieri del nostro modo di vivere della nostra esistenza umana e intellettuale e anche morale grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti